è un po come ritornare indietro di molti anni è stata presa con una certa filosofia dalle titolari delle attività il trasferimento dei banchi dei due ortofrutta nel centro del chiostro del mercato del carmine una collocazione temporanea che ricorda un po il periodo in cui il carmine era il centro pulsante del mercato cittadino dalla società che si è aggiudicata la gestione del mercato la 4223 c'è soddisfazione per aver trovato un accordo con due delle cinque attività presenti e si parla di ricollocazione dei banchi all'interno degli spazi della chiesa appena completati gli ultimi lavori e le questioni burocratiche ancora incerto il destino delle due attività che hanno fatto ricorso al tribunale chiedendo la sospensione allo sgombero attualmente sono in attesa della decisione del giudice che dovrebbe arrivare intorno alla metà di luglio delle cinque attività l'ultima la cioccolateria ha deciso di chiudere i battenti l'ultima la cioccolateria ha deciso di chiudere i battenti che dovrebbe arrivare intorno alla